E non c'è bisogno di niente, ai 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 Quando la notte ti prende, ai 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 Tra il cielo e la savana, tutto girava Già un po' buona, dicevi tu Guardando me Guardando me Segui il fiume all'orizzonte Dove l'estate non cambia colore Da più vicino anche il sole Sopra la linea dell'equatore Tu dimmi che vuoi restare con me se il mare è blu Voglio andarci con te E non c'è bisogno di niente, ai 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 Quando la notte ti prende, ai 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 Tra il cielo e la savana, tutto girava Già un po' buona, dicevi tu Guardando me Sì sì, avevo due telecamere a me E si va a ballare Sì, lo vuoi quando ti prende E uno non dimenticate E se ti prende 54 volte accorgiamo Quella della 55 Con i colori della L'abinale che devono scendere dalla avvettura E sono in tre Cannoni Carta Adesso ci ricordano anche chi Andrea Cannoni Francesca Carta è Daniel sta dormendo e sveglia però magari se non moro è meglio dico bene? facciamolo un saluto a Cannoni alla carta al piccolo Daniel è piccolissimo, quanto tempo ha? un anno e qualche mese quindi è già al suo secondo Chardin che bello che l'ho portata in macchina ma poi a livello di emozioni come state messe in questa vigilia del rally? tantissima tantissima eh? l'anno scorso dove eravate? a fare il tifo con la strada? no, l'anno scorso non c'era tu correvi? sì, sì, io correvo come è andata? bene, bene, benissimo e tu l'anno scorso no, non te lo puoi ricordare magari tra qualche anno che stella o qualche anno sì signori facciamo un grandissimo grandissimo applauso guarda qua per la Andrea Cannoni Francesca Calda e il piccolo Daniel è tutto giusto? Daniel, eccolo qui dai canti la mia amici esperta il pilota al debut un pilota che però ha in casa chi mi può dare dei consigli il pilota è un pilota che ha una buona esperienza che speriamo abbia potuto trasmettere io dico ma Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come sta andando? Dai, sta andando bene, è caldo a parte, però Andrea si sta comportando bene per essere la sua prima gara, mi sta ascoltando, ma non ci possiamo lamentare. Allora gli dobbiamo fare due parole, questa è una nuova esperienza nel mondo dei rally, come sta andando? Bellissima, grazie e grazie a Francesca. E' più bello stare dai muretti o dalla macchina? Dalla macchina. Ok, allora ci vediamo dopo all'arrivo, dai. Ok, grazie. 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 Grazie a tutti e grazie a mio padre. Grazie a Maurizio Morucci. Grazie a tutti. Se lo io non soggiorno che si ovviene che c'è su canzone